La visita in azienda, l'essere fisicamente in quel luogo, con la mente e con i sensi, guardare, ascoltare i rumori, annusare, sentire gli odori, i profumi, essere nei campi, osservare l'acqua, gli alberi, gli edifici, le macchine, parlare con chi gestisce l'azienda e con chi ci lavora, ci abita, ha rappresentato un'occasione insostituibile per entrare in contatto con il mondo agricolo e per capirne la complessità sperimentando insieme agli altri un autentico percorso di conoscenza. La conoscenza del mondo agricolo acquisita nel corso, con la presenza degli agricoltori in carne ed ossa, le visite in aziende agricole e gli incontri a scuola non hanno coinvolto solo gli insegnanti ma anche i bambini in percorsi costruiti ad hoc.